Ragazzi vi prego di rispondere sì, soltanto se ne siete, soltanto se siete predisposti al viaggio astrali ipnoinducente, dovete essere predisposti, ho fatto un corso di viaggi astrali ipnoinducenti, sono maledettamente complicati da eseguire tutta l'energia che ho nel corpo, tutta l'energia che ho nel corpo, voi dovete praticamente svuotare la vostra mente e farvi trasportare dal flusso che io vi comunico, ma proprio vi dovete far trasportare, dovete essere proprio liberi come delle farfalle, dovete volare, quando io dico le cose voi dovete immaginare tutto quello che vi dico ragazzi, allora il viaggio astrale ipnoinducente è una tecnica di rilassamento, io metterò della musica psichedelica e incomincerò a far viaggiare nello spazio e nel tempo, nello spazio e nel tempo, per esempio oggi siamo tornati indietro all'11 settembre del 2001, siamo tornati indietro al 1978, siamo tornati indietro al 1894, siamo tornati indietro addirittura al tempo dei dinosauri, siamo stati a città laggiù, siamo stati nel fantaposco, siamo stati in posti che neanche potete immaginare, chissà, chissà dove finiremo, chissà dove finiremo questa sera, se vi siete mai fatti una canna di quelle potenti, triplicate l'intensità, però ovviamente dovete essere predisposti, dovete essere predisposti ragazzi, dovete essere predisposti, è un viaggio ipnotico, è un viaggio astrale ipnoinducente, capite? Viaggio astrale ipnoinducente, è una cosa fenomenale, è una cosa epica, capite? H304X0P, grazie, certo se volete chiudere gli occhi conviene, potete darli aperti, ma potete anche chiuderli, va bene ragazzi, è una cosa estremamente difficile da effettuare, ci ho studiato per giorni, è induzione all'ipnosi, se tu chiudi gli occhi ti attormenti durante il viaggio astrale ipnoinducente, potresti essere capace di fare dei sogni lucidi, di Valentina, potresti essere capace di fare dei sogni lucidi, è una cosa potentissima, ragazzi vado un attimo a fare la pipì perché mi devo svuotare di tutte le energie negative, Grazie. 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 Il cao ballo. Wow. Dieci. Nove Oto Seis Cinquantanove Tre Zero Zero Entriamo nel flusso Signor Oh no, signore, la terra è pianta, è pianta. No, credo di no. Partiremo dal porto di Gallia e arriveremo in India. La terra è sferica. Ammanate le vele! Capitano, capitano, è 35 giorni che siamo in mare. Voi, vieni, 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 vieni. Vieni, vieni, vieni. Vieni, 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 vieni. Wow! Avete visto? Questa è l'India. È l'India. Attraccate l'ancora. Attraccate l'ancora. Pizza kebab, pizza kebab, pizza kebab, è assolutamente l'India. Io, pescucci americo, non capisco cosa dicono questi indigeni. Eppure, la terra è sferica. Eppure, la terra è sferica. La terra è sferica. Il bambino è sferica. Questa non è l'India. Qui nessuno parla indiano. qui nessuno parla in piano wow cristoforo cristoforo colombo cristoforo cristoforo colombo wow signore e signori questo non è l'india questa si chiamerà america 4 aprile 1269 la nobe a zucco le streghe cosa è una strega no no la no non c'è una strega non c'è un ingegno uh 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 come on come on wow 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 marido 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 sono neanche il cane di pane Marinù mamma aiutami tu E' un po' di potenza E' un po' di potenza ma fa il culo ma fa il culo ma fa il culo i cittadini dentro le istituzioni ognuno vale uno ognuno vale uno sono peppe grillo sei io ho 69 anni ho barcato all'istretto di Messina questi ragazzi qui possono entrare nel parlamento cittadini che entrano nelle istituzioni la fa ancora la fa ancora ma mi lavora ora la fa ancora edizione straordinaria del TG.24 più ormi più ormi più ormi can 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 Sì. 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 Dove sono? Dove sono? Dove sono sbarcato? Ma questa non è la terra. Oddio, ma questa è la statua della libertà. È tutto diverso. Dove sono tutti? Sì. Ma questo è il 3000. Indipendenza. Insoddisfazione. Felicità. Percorso. Indipendenza. Devo essere indipendente. Stipendi. Ho bisogno di soldi. Che cosa sono i soldi? Cosa sono i soldi? Scusi. C'è una banca? Posso prelevare? Cosa sono le banche? Cosa sono le banche? Cosa sono le banche? Quanto costa? Un po' di cibo. Che cos'è il cibo? Che vuol dire costa? Cosa 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 costa? Devo assolutamente farmi una dolce. Sono tutto sudato. Che vuol dire dolce? Buonasera, sta profondando Aiutatemi, potete prestarmi un telefono Almeno chiamo qualcuno Cosa hai detto? Ho bisogno di un telefono, aiutatemi, non so da dove vengo Cosa hai detto? Ho bisogno di un telefono, aiutatemi, da dove vengo? Un telefono Che cos'è un telefono? Un telefono Ispiro, 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 ispiro Sento l'elettricità Sento l'elettricità Sento l'elettricità Sento l'elettricità Hai bisogno di acqua Tutto sei vivo Tutto respiri Tutto ispiro Ed è spiro Tu sei un albero Tu hai un tronco È duro il tuo tronco Molto duro Tu sei un albero Sei fatto di foglie Fragile Si sta Si sta Come d'autunno Sugli alberi le foglie Fragile 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 Sono fragile Cosa darei per una certezza? Cosa darei Cosa darei per una certezza? Cosa darei per una certezza? Cosa darei per una certezza? Dove vai? Dove vai? Non mi abbandonare No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. C'è stato un distaccamento tra me e la mia coscienza Ma la coscienza mi chiedeva dei soldi Io non avevo soldi da darli Lei si è impossessata di me Poi mi sono svegliato È stato un viaggio stra-lipno in 200 Era completamente andato ragazzi Forse sto esagerando a fare i tuoi viaggi in un giorno Forse è stato esagerato a fare i tuoi viaggi in un giorno ragazzi Ero in Egitto, c'erano le piramidi C'erano le piramidi, c'era caldo, c'erano 42 gradi Era sempre fatto, ci fosse il deserto Il Green Pass non c'era più ragazzi Il Green Pass non c'era più Il Green Pass era finito È stato intensissimo la situazione ragazzi Ah mai più viaggio stra-lipno in 200 Mai più Poi prima di svegliarmi la coscienza mi metteva 40 euro in tasca ragazzi Ecco l'ultima cosa che ricordo L'ultima cosa che ricordo Era la mia coscienza che mi metteva 40 euro in tasca Ma era sicuramente frutto della mia immaginazione Perché io sicuramente non ho 40 euro in tasca ragazzi No no, 40 euro in tasca è impossibile Non ce l'ho mai avuti 40 euro in tasca Era tutto vero 40 euro in tasca Ma mi li metteva la coscienza Ma allora Ma no, ho preso il culo Ma mi sono distratto a mentale Ma io, a me Comunque 40 euro sono soldi Ma io, a me